I fondi europei che erano stati usati per strumenti di ingegneria finanziaria che adesso vengono liberati a condizione di utilizzarli per le stesse finalità della precedente programmazione, quindi interventi a favore delle imprese, dell'efficientamento energetico, della reindustrializzazione delle aree. Quindi sono 130 milioni freschi che entrano direttamente a favore delle imprese. Con la delibera di oggi li abbiamo programmati, sono risorse che vanno direttamente sui bandi già attivi, penso al T2 che viene rifinanziato, al T4 dove aggiungiamo altri 20 milioni di euro, al T3 che è la pezzatura di investimenti da un milione e mezzo fino a 5 milioni sui quali faremo presto il bando. In più diamo risorse anche ad altri importanti strumenti, penso ai contratti di sviluppo nazionale per i quali mettiamo come cofinanziamento 25 milioni pensando di attivare un importo complessivo di 100 milioni per i quali le nostre grandi imprese potranno partecipare. Infatti hanno già fatto diverse domande al Ministero per lo Sviluppo Economico. L'esperienza ci dice che la maggior parte delle imprese appartengono al settore dell'artigianato, del commercio e del turismo. Questo ci fa ben sperare. Il primo bando ha visto coinvolto l'assessorato per quasi 500 domande. Contiamo di ripubblicare questa misura, ovviamente il CRP in collaborazione con la Sfirs e noi per quanto di competenza entro la fine dell'anno. Una piccola notazione sul T4 che attiene a quegli investimenti superiori ai 5 milioni di euro anche cui grande interesse da parte delle imprese del settore di turismo. Per dire cosa? Per dire che la Regione ha a fianco un'idea di sviluppo che pone al centro le imprese con una modalità che è quella sportello, capace di premiare la progettualità e i piani ovviamente industriali delle nostre imprese. Sono risorse importantissime ma anche che arrivano in un momento importante perché noi percepiamo una sensibile attenzione da parte degli imprenditori. Vogliono investire, vogliono attingere alle risorse regionali e noi in questo modo vogliamo accompagnare questa sensazione di intrapresa. Questo lo facciamo con i 130 milioni ma in particolare per le imprese industriali le accompagniamo e le utilizziamo per la reindustrializzazione quindi per l'acquisto di capannoni e di smessi e per il contratto di investimento sia come accompagnamento al contratto di investimento nazionale ma anche come contratto di investimento fatto proprio con risorse regionali.